Buongiorno a tutti, nel report di aggiornamento normativo e giurisprudenziale di questa settimana ci occuperemo del disegno di legge numero 2459 che è stato approvato definitivamente il 6 aprile 2022, cosiddetto Family Act, che rega appunto delega al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Come potete vedere le materie interessate sono molteplici, dal diritto civile al diritto processuale civile, passando per il diritto scolastico, il diritto del lavoro e sanitario. Non sono state apportate modifiche a leggi o provvedimenti normativi, ma sicuramente attraverso i decreti attuativi questo probabilmente avverrà, viste le varie materie che sono state toccare dalla riforma. I volumi interessati sono praticamente tutti manuali che contengono parte dedicate alle materie che abbiamo prima elencato e per l'esercizio delle deleghe sono state poste scadenze temporali differenti a seconda dell'oggetto della delega. Il provvedimento si compone di nove articoli. L'articolo 1 enuncia in primo luogo le finalità dell'intervento normativo che contiene disposizioni per l'appunto di delega. Al governo per l'adozione riordina il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere in particolare quello femminile. Al comma 2 inoltre reca i principi e criteri direttivi generali a cui appunto il governo si deve attenere nell'esercizio delle deleghe che poi sono precisali da ulteriori principi e criteri direttivi declinati negli articoli successivi. L'articolo 2 al comma 1 conferisce al governo la delega ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti per il riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico prevedendo contestualmente l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. L'articolo 3 al comma 1 delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al congetto parentale. I decreti andranno adottati entro 24 mesi, mentre l'articolo 4 delega il governo per il riordino e rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Anche in questo caso i decreti andranno adottati entro 24 mesi. L'articolo 5 reca la delega sempre ad adottare entro 24 mesi per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani attraverso una serie di misure tra le quali per esempio la previsione di detrazioni fiscali per le spese documentate, sostenute ovviamente dalle famiglie o anche misure di sostegno diretto, anche sotto forma di bonus direttamente spendibile, come per esempio per l'acquisto di libri di test universitari. Molto interessante sono invece le agevolazioni fiscali previste per l'allocazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle coppie giovani composte da soggetti aventi, ambedue un'età non superiore ai 35 anni, ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore ai 35 anni. L'articolo 6 impegna il governo a radottare entro 12 mesi una serie di provvedimenti per sostenere e promuovere le responsabilità familiari e favorire una diffusione capillare dei centri e dei servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare. Il procedimento per l'adozione dei decreti è stabilito all'articolo 7, gli altri articoli si occupano chiaramente di copertura finanziaria, entrate di vigore, eccetera. Per quanto riguarda le pronunzie giurisprudenziali che ho scelto questa settimana, abbiamo molto interessante quella del Tar del Lazio, sezione terza bis, del 10 marzo del 22, numero 2801. L'ambito, come potete vedere, è il diritto amministrativo, pubblico impiego e concorsi pubblici, incide in via indiretta sul Decreto Legge 44 del 2021, che è detta nuove regole per la partecipazione ai pubblici concorsi, in particolare, comma 2 dell'articolo 10, e anche sull'articolo 2147 del Decreto Rilancio, il numero 34 del 2020. I manuali, ovviamente, sono quelli che riportano disciplina normativa relativa al diritto amministrativo, ma in particolare al pubblico impiego, praticamente la sentenza ha stabilito che la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e ragionevole. Infatti, il principio di autoresponsabilità, si legge, e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi, incontra un limite in un'emergenza pandemica globale, relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del singolo infetto o potenzialmente infetto dal Covid, ma piuttosto quella di impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Interessante anche la Corte Costituzionale 28 marzo 2022, numero 79, qui siamo nell'ambito di diritto civile e processuale civile, incide sull'articolo 55 della legge sulle adozioni, la numero 184 e 83, i manuali ovviamente sono quelli interessati che contengono materie dedicate a queste, chiedo scusa, parti dedicate a queste materie elencate. In pratica la sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 184 e 83, come abbiamo detto, nella parte in cui, mediante rinvio all'articolo 300,2 del Codice Civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. E ancora, Corte Costituzionale 4 aprile 2022, numero 87, sempre l'ambito è simile, diritto civile e processuale civile, qui incide in particolare sull'articolo 4 del decreto legge 1937-2020, ristori bis, e la sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo e in pratica sono stati ritenuti illegittimi i due mesi di inefficacia di vignoramenti sulla casa con riferimento alle procedure esecutive effettuate da 25 ottobre al 25 dicembre del 2020, poiché ha lo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato contempla una conseguente eccessivo pregiudizio per il creditore che non si pone in necessaria correlazione con tale finalità di tutela. Dunque, per oggi abbiamo terminato, se ci fossero ulteriori interessanti novità normative giurisprudenziali, ve ne daremo immediatamente conto, ci vediamo al prossimo report, vi ringrazio e vi saluto.